Sì, ma logicamente ho un blocco, non mi diverto se non c'è balocco Miracolo, non è ancora Natale, ma è già nato Gesù Ma che è nato? Anche io sono stata trovata così Un bimbo in convento è in buone mani, forse troppe Ma la mia mamma, la mia mamma vera dov'è? Mamma, mamma! Qui ci vuole la madre, la madre superiore Certo, di mamma ce n'è una, ma con sei mamme e un bebè, che problema c'è? Tanto, Dio vede e provvede Martedì, 20 e 50, canale 5 Le ricette speciali 9 Consolatevi Quelli che è il top, sono gli amici che contano Quelli che è il top, è fuori serie ma dentro divertenti Quelli che è il top, il lavoro è tutto nella vita Quelli che è il top, è come vivono loro Oh yeah Top card BNL Top a modo tuo Boccasana, che c'è? Ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta avvenendo un mal di gola Sì, ma come faccio? Aspetta un po', va Contro il mal di gola e le infiammazioni della bocca Da oggi tutta l'efficacia di tanto un verde è anche in pastiglie Alto! Guarda che è l'ultima Presa Meno male Ma mi raccomando, tienila in bocca, se no non fai fetto Sì, ma ci mette tanto? Perché? Hai qualche impegno? Tanto un verde pastiglie è salute orale È un medicinale Leggere attentamente il foglietto illustrativo Sì, ma ci mette tanto? Heineken presenta Le città musicali Una videocassetta, una guida e un cd Per conoscere l'anima di una città C'è feeling, c'è musica, c'è Heineken Le città musicali In edicola il primo numero su New York Il Natale dei piccoli alla standa è grande E ci sono tutti i loro giochi preferiti Anche Barbie Sirena ha solo 29.900 lire Mmm, come croffice Ma cosa stai mangiando? È il panettone motta È Natale Ma va, se mancano 320 ore Panettone motta Anche oggi è Natale Hai capito, testina Il Natale quando arriva, arriva Why did you love them? Pfff Pfff Warum immer ich? Warum frag ich dich? Liebst du einen anderen? Pfff Pfff